Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Siamo alla terza giornata della terza settimana, nonché l'ultima settimana di Wave, con l'ultimo appuntamento del ciclo di conferenze tenuto dai visiting professor di Wave, che in realtà non costituisce l'ultimo appuntamento online, perché domani, per chi non lo sapesse, chiudiamo in bellezza con gli incontri online, con una chiacchierata tra il noto architetto portoghese Alvaro Sisa e Roberto Cremascoli, che oggi abbiamo qui con noi e che ho il piacere di introdurre. Roberto Cremascoli è un architetto italiano che si è laureato al Politecnico di Milano con una tesi di laurea con relatori Alvaro Sisa e Pierluigi di Colin, che diciamo sancisce il momento di incontro della collaborazione che nasce tra Cremascoli e Alvaro Sisa. Cremascoli in realtà è un architetto che vive e lavora tra l'Italia e il Portogallo e in particolare prevalentemente in Portogallo, dove è socio fondatore dello studio Cremascoli o Comura Rodriguez, a tutti noto come Core Architectos, e che in realtà segue diversi cantieri sparsi per il mondo. Cremascoli è stato già ospite di Wave, distinguendosi nel 2018 con una menzione nell'edizione di Wave intitolata Italian Beauty. Non voglio dare troppe anticipazioni sui suoi progetti che adesso si mostrerà Roberto, però mi preme dire che a mio avviso i suoi progetti ruotano intorno ad alcuni temi, alcuni punti fissi ricorrenti. il colore, il gioco di luce e trasparenze, la creazione di spazi nello spazio, alla ricerca sempre di nuovi scenari che trasmettono in qualche modo un'atmosfera onirica. Bene, passo la parola a Roberto Cremascoli. Grazie, grazie, quindi abbiamo il cornetto, andrà tutto bene oggi. Buongiorno a tutti, io sono Roberto Cremascoli e racconterò una storia perché c'è sempre una storia da raccontare, il mio studio è composto da da altri due elementi, C di Cremascoli, O di Ocomura e R di Rodriguez, è uno studio che ha base a a Porto dal 2001. Quello che è successo nell'ultimo periodo in tutto il mondo, un problema che per la prima volta unisce tutto il mondo, è passato anche attraverso il Portogallo, citato come in tanti giornali internazionali come il miracolo del governo portoghese. Il miracolo del governo portoghese è stato quello che ancora prima di tutti, diciamo, i divieti possibili di circolazione, i portoghesi in maniera laconica si erano già rinchiusi nei loro spazi domestici e hanno iniziato il periodo di lockdown, il periodo che ci ha fatto convivere con scenari metafisici, che ci ha fatto lavorare in una certa maniera diversa nel cosiddetto smart working, che ci ha fatto ripensare a tutta una serie di azioni che potevano essere fatti in una maniera diversa come fare colazione su un terrazzo prima di iniziare il lavoro in smart e lavori di manutenzione come il Ronaldo di fronte a casa mia e grande relax, se la sono goduta anche i gatti. Questa invece la ripresa, la cappella delle anime, la cappella da Salmas, quindi anche in maniera laconica i portoghesi e la fortuna di avere il mare ha fatto riprendere con estrema natura naturalezza il percorso quotidiano e ritornare alle postazioni di lavoro con un'energia differente, pensando che il mondo può funzionare anche in altre maniere. C'è sempre una storia da raccontare, io sono soprattutto un architetto ma mi è capitato spesso e volentieri di essere curatore, di essere editore, di preparare, presentare dei programmi televisivi sull'architettura portoghese, però sono soprattutto architetto e nell'architettura e tramite l'architettura si può raccontare una storia, è un mezzo anche per raccontare gli spazi che, come nel caso di un museo o come nel caso di un hotel o come nello spazio domestico, gli spazi hanno bisogno di uno scenario come nel caso per esempio di uno showroom di uno stilista portoghese o se siamo all'interno di un bar, in una pasticceria al nord del Portogallo. Lo scenario ha bisogno però anche e soprattutto di persone. Dunque, noi facciamo varie cose, lavoriamo su varie scale, ma una delle, diciamo, delle nostre peculiarità è quella di lavorare nel campo della museografia, che utilizziamo come una sorta di laboratorio, il campo della sperimentazione, come facevano gli architetti negli anni 50 e 60, grandi architetti come Scarpa, i fratelli Castiglioni o Albini hanno ricostruito l'Italia a partire dall'heritage, dal tesore, dal patrimonio che l'Italia aveva, sia dal punto di vista dell'oggetto artistico, sia dal punto di vista del manufatto architettonico. Quindi utilizziamo questa sorta di laboratorio per sperimentare scenari che poi magari ci ritroviamo anche all'interno delle architetture. Ecco, qui sono divisi in tipologie questi interventi museografici, quando siamo all'interno di uno spazio costituito, questa è l'estufafria a Lisbona, è una sorta di giardino botanico e all'interno abbiamo organizzato il disegno di una di quelle che è stata la prima grande esposizione molti anni fa sul design ecosostenibile, comunque sull'architettura e design ecosostenibile, quindi confrontarci con uno spazio e quindi costruire all'interno di questo spazio delle nuove scatole, una nuova spazialità, una pelle interna. Un altro caso di scatola dentro la scatola è al Museo dell'elettricità di Lisbona, che adesso si chiama MAT, dove abbiamo ricostruito all'interno della sala centrale una specie di interstizio, una specie di grotta dominata da alcuni pezzi di design portoghese, dove il nostro amico pinguino era il padrone di questo spazio glaciale che apparentemente dall'esterno, come dicono i napoletani, sembrava uno spazio anonimo, uno spazio puro e poi all'interno, come i napoletani dicono, si entra all'interno di un tripudio, quindi lo spazio con tutti i suoi barocchismi diventa estremamente dinamico. Qui siamo invece all'esposizione universale di Saragozza del 2008, dove con un nostro intervento smontabile abbiamo presentato i pezzi dei noti design portoghesi all'interno di questa sorta di treno smontabile che poi abbiamo rimontato all'interno del museo di Serralves. Altre scatole, qui siamo sul fiume, sul fiume Tejo a Lisbona, eravamo sui docks, abbiamo recuperato, ristrutturato dei containers che erano lungo il fiume, li abbiamo ricoperti con dei vecchi outdoor del museo di Lisbona, del museo dell'elettricità e abbiamo trasformato all'interno di questi containers lungo il fiume un percorso che esponeva pezzi di noti artisti come Giovanna Vasconcellus che ha rappresentato per esempio il Portogallo in una delle ultime biennali di Lisbona. Un altro esempio di confronto con uno spazio già esistente è accaduto al Maxi, dove insieme ad Alvaro Siza dovevamo confrontarci con i contenuti legati al sacro e quindi pezzi disegnati in architettura ma anche oggettistica legata al sacro disegnati da Alvaro Siza ma dovevamo confrontarci con gli spazi di Zadid e lo si è fatto in una maniera disinvolta facendo rendere partecipe le pareti di Zadid all'interno di questa sorta di labirinto bianco che raccontava il sacro e profano di Alvaro Siza. Questi per esempio sono abiti religiosi che Siza ha disegnato per l'ultimo pontefice del Papa Francesco e che vengono utilizzati. Un'altra tipologia di intervento è la gravità, questo fatto di sfidare la gravità è il sogno sempre dell'architetto di cercare di sospendere le architetture in una sorta di spazio effimero e di far convivere un percorso all'interno di uno spazio come abbiamo fatto al MAT un'altra volta creando una sorta di labirinto bianco che poi ci siamo accorti che sembrava un po' quella immagine di Tati di Playtime dove in Playtime queste box bianche erano nient'altro che uffici che sembrano un po' quegli ospedali da campo che sono stati organizzati ultimamente ma all'interno di questo labirinto bianco si esponevano pezzi di arte la collezione della fondazione EDP che è la fondazione più importante a livello artistico è la compagnia elettrica portoghese e pezzi di design. Quindi sempre questo fatto di mischiare di confondere il design e l'architettura con l'arte, con la musica, con la letteratura perché poi c'è tutta una sorta di programmazione parallela nell'ambito di questi dieci interventi, queste dieci installazioni che abbiamo fatto tra Porto e Lisbona per un progetto che si chiamava Remade in Portugal. Siamo sempre nell'ambito quindi della sfida della gravità, in questo caso in una galleria di Porto nella galleria appunto della fondazione abbiamo utilizzato delle canne dell'acqua, quelle idrauliche per utilizzarle come dei separe degli ambienti espositivi creando questa vibrazione ecco degli spazi quindi l'utilizzo di un semplicissimo materiale che poi può definire gli ambiti spaziali di un'esposizione tanto che poi la sfida è stata anche quella di fare in successione, appendere anche, invitare una serie di artisti a cui abbiamo detto l'unica cosa che non potete fare è appoggiare nulla sul pavimento e quindi anche i tappeti volanti, anche le installazioni degli stilisti diventavano alla fine una sorta di fantasmi in mezzo alle persone. Un altro esempio di sfida della gravità è quando nel museo di Paolo Mendes da Rocha, il Pritzker brasiliano a Lisbona abbiamo ricostituito un'esposizione che in realtà era stata alla 21esima triennale di Milano in un'altra conformazione e abbiamo creato degli ambiti che in successione mostravano una collezione specifica d'arte e una serie di testimonial degli stessi artisti e architetti che esponevano all'interno di questo percorso espositivo che si chiamava Object After Object. Credo per finire la sfida della gravità, questa è una delle varie versioni di Neighborhood, che vedremo più avanti, siamo nel garage del SSB a Lisbona, progetto di Vittorio Gregotti, dove esponevamo in un altro formato il progetto del 2016 alla Biennale di Venezia. Come diceva poco fa Daniela, nella presentazione il colore è una parte fondamentale del nostro lavoro, considerato magari a volte anche blasfemo, perché in questo caso questa è un'esposizione che mostra al Museo di Serralves la collezione, mostra 30 anni di collezione del Museo di Serralves, collezione internazionale e gli spazi candidi e puri di Siza, all'improvviso sono stati trasformati in spazi colorati, dove ogni colore definiva gli ambiti, ogni cinque anni c'era un ambito specifico della collezione che mostrava gli anni 60, 70 e 80 della collezione, quindi il colore che abbraccia lo spazio e diventa parte integrante, ma è una specie di ritmo, di segnalare che i pezzi esposti cambiano di cronologia e il museo stesso viene abbracciato da questa serie di colori che poi definiscono i vari passaggi durante le decadi della collezione. Beh, anche questo in teoria sarebbe un misto tra la sfida della gravità e l'uso del colore. Questo è un altro esempio di uso del colore in cui nel Museo della Facoltà di Architettura utilizziamo in un'altra versione di Neburud, where Alvaro Mizzaldo, l'azzurro del cielo, l'azzurro della Madonna definito da Aldo Rossi per incontrare Siza nello spazio progettato da Siza è lo spazio museo della Facoltà di Architettura e poi c'è anche il mattone rossiano che si confronta con lo spazio bianco di Siza. Credo che sia l'ultima delle tipologie, andiamo sottoterra, l'anno scorso Napoli celebra la sua relazione con Caravaggio che in due momenti della vita e poi l'ultimo purtroppo lavora a Napoli, è il periodo diciamo più tenebroso del lavoro di Caravaggio e al di sotto del Museo di Capodimonte abbiamo disegnato insieme a Flavia Chiavaroli che negli ultimi anni ha seguito insieme in collaborazione tutti gli ultimi lavori che stiamo facendo nell'ambito della museografia e abbiamo ricreato la Napoli del Caravaggio, i vicoli ispirandoci a chi raccontava che Caravaggio usava, utilizzava i suoi atelier che si faceva per stare, per ricreare, prima di tutto per dipingerli di nero e poi invece di usare dei, questo era lo spazio comere, invece di utilizzare dei pupazzi come si utilizzavano per raffigurare le persone è stato uno dei primi ad utilizzare il corpo umano, quindi i modelli in mezzo a questi atelier, a questi spazi dipinti di nero e solo con la luce delle candele ricreava il suo gioco di luce e di ombra e i suoi contrasti pittorici. Noi abbiamo voluto riportare questa modalità all'interno di questi vicoli dove però citiamo anche i vicoli della città di Napoli con questa sorta di insule che si attraversano e che aprono finestre e che fanno intravedere in secondo e in terzo piano opere che poi si sosseguono su vari piani prospettici. Il successo dell'esposizione è stato quello che quando si entrava, vi assicuro, l'ambiente era molto più scuro di quello che si vede in queste fotografie, quindi l'opera galleggiava in mezzo a questi spazi scuri e come dire, le opere erano il primo, il principale, il protagonista a tutto campo dell'esposizione. Il secondo scenario invece è lo spazio domestico. Per raccontarvi lo spazio domestico vi faccio vedere il Grand Hotel di Porto che è uno spazio che abbiamo addomesticato con circa, con sette livelli e che sono stati, diciamo, siccome il proprietario non voleva chiudere l'esercizio, ci siamo organizzati per fare, diciamo, ogni sei mesi un piano. È un albergo molto grande, è l'albergo in attività più antico della città, del 1886, un albergo con 105 stanze. L'albergo c'era stato, così è come dopo il restauro, c'era stato consegnato, così aveva perso completamente la sua identità, sembra uno di quegli hotel Ibis, per carità gli Ibis sono meglio, quegli hotel che si possono trovare, ecco, non so, anonimi, senza nessuna identità. Durante, diciamo, quasi un secolo l'hotel aveva subito diverse trasformazioni e noi siamo arrivati fino all'osso, abbiamo demolito tutti gli strati come se fosse un reperto archeologico e i reperti archeologici li abbiamo trovati e abbiamo cercato, dove abbiamo potuto, di integrarli all'interno del nuovo progetto. Ogni piano, partendo dall'alto, è diverso. Questo, per esempio, era dove vivevano, diciamo, la servitù, la fine dell'Ottocento e diventano due appartamenti, diciamo, affittabili e poi il padrone della famiglia, che è sempre la stessa famiglia, ha deciso invece di utilizzarli ad uso interno. Scendendo, i piani acquistano, sono diversi tra di loro, ma c'è sempre questa colorazione, che è il marrone, che è il colore, il colore cioccolato, che è un colore che comunque è sempre stato presente fino dall'Ottocento all'interno, così, della conformazione cromatica dell'hotel. Questa è una vasca da bagno. Cosa è successo? Durante i lavori abbiamo scoperto un magazzino, abbiamo scoperto, tutti conoscevano l'esistenza di questo magazzino, ma diciamo, ogni dieci anni, dieci, quindici anni, che durante il secolo l'hotel subiva trasformazioni, meno male, i mobili non venivano gettati, venivano stipati. Noi ci siamo appropriati anche, come ci siamo appropriati dell'archeologia, dello spazio, dei mobili, ma anche delle sedie, delle sedie un po' così terribili degli anni Ottanta, degli anni Novanta, e qui si vede la stessa sedia, per esempio, e li abbiamo fatti risuscitare, abbiamo dato una seconda vita a tutto, ai mobili degli anni Quaranta, ai mobili degli anni Cinquanta, anche a quelli degli anni Ottanta, e li abbiamo integrati a nuovi mobili che erano necessari all'interno delle suite, all'interno delle varie stanze. Ecco, adesso la carrellata di questa sequenza del marro, ecco, qui un esempio, insomma, di queste cose che vengono, di questi oggetti bellissimi che vengono ristrutturati si mischiano con, si mescolano con nuove tipologie, come questo separe che abbiamo disegnato in mezzo ai mobili degli anni Cinquanta e Sessanta, o riproduzioni false che noi abbiamo fatto di illuminazione. Anche i bagni, avete visto poco fa, noi abbiamo proprio demolito tutto, e quindi anche, per esempio, nei piani nobili abbiamo ristrutturato utilizzando le vene, quindi i marmi del sud del Portogallo, la ristrutturazione del piano terra è stata quella di affidarci a foto dell'epoca, anche gli spazi comuni, gli spazi a congresso sono stati ristrutturati veramente con l'ausilio della storia, e quindi degli archivi, che sono sempre un aiuto fondamentale. Ecco, il terzo scenario, quello diciamo, un gioco di parole definiamo Uberscape, riparte da Grand Hotel, questa è la Black Tower of Light, così come è conosciuta, che è un ampliamento sul terrazzo, che si rifà a un, abbiamo scoperto che il terrazzo all'inizio del Novecento, quindi all'ultimo livello, al settimo livello, veniva utilizzato come una sorta di piazza sulla città, e quindi abbiamo convinto il nostro cliente a ritrasformare lo spazio utilizzando un sistema costruttivo che si utilizza molto al centro di porto, con queste scame di Ardesia, il padiglione sul terrazzo, ecco che si vedono nel centro di porte, e abbiamo utilizzato un sistema costruttivo che si chiama gaiola, che vuole dire gabbia, ovviamente integrandolo poi con sistemi termici di isolamento per permettere, diciamo, visto che eravamo sul terrazzo, per permettere il giusto funzionamento di questo padiglione, che un po' serve come da appoggio e ricevimento, serve da palestra ultimamente, quindi, o da sala massaggi, come un piccolo spa, insomma, è una specie di sorta di padiglione sui tetti di padiglione multifunzionale. Siamo molto contenti perché è diventato un pezzo iconografico della città di Porto, nel senso che le persone salgono sul terrasso per prendersi un aperitivo e guardare il centro della città, a partire da questa piazza che si eleva sui tetti. E questo è questo canale di luce che innonda gli spazi interni. Proseguendo sulla tematica Urbanscape, qui siamo a Marigna Grande, che è la capitale del vetro in Portogallo, come se fosse, diciamo, la Murano per l'Italia, e al centro, questo è un concorso che vincemmo all'inizio degli anni 2000, poi è stato costruito solamente a partire dal 2011-2012, i tempi dell'architettura sono tempi molto dilatati. Questo edificio di circa 200 anni di età è stato in fase di concorso e poi in fase, diciamo, esecutiva. chi ci ha aiutato ancora una volta è stata la storia. Era un mercato, quando ci è stato consegnato in fase di concorso, era il mercato municipale che comunque si spostava, la destinazione era già stata costruita per spostare il mercato in un altro luogo della città di Marigna Grande. L'operazione che noi facciamo è questa, adesso vi spiego anche il perché, togliamo questa copertura, il programma doveva diventare, non doveva diventare, è una sorta di centro civico, però dedicato anche alla storia del vetro, che è la storia di questa città. Quindi questo elemento al centro è in realtà il NAC, il Nucleo d'Arte Contemporanea del Museo del Vetro. all'interno dell'edificio invece ci sono tutti i nuovi uffici comunali, dell'amministrazione e uffici commerciali, ma l'operazione importante che il nostro studio fa è quella di ricreare un giardino e di aprire un'altra volta le gallerie e attraversare la città da ovest ad est, ma anche da nord a sud, attraverso questo nuovo patio che poi abbiamo, questo nuovo patio che non era nuovo perché questo giardino esisteva, pare che il primo cinema all'aperto all'inizio del Novecento in Portogallo sia stato questo giardino, questo edificio era stato anche fabbrica di resina perché vicino c'è la più grande foresta di pini da cui si ricava la resina per fare la gomma, per fare il caociu. Insomma, questo edificio era stato tante cose, aveva già avuto una torretta per controllare appunto gli incendi da distanza dei pompieri, De Carlo diceva che i migliori edifici, le migliori tipologie, i migliori edifici sono quelli che resistono ai vari cambiamenti di tipologia. Questo edificio ha resistito ancora una volta, in alcuni punti non volevamo nessun pilastro, quindi abbiamo lavorato con delle luci, quindi con costruzione di un cemento armato, anche per consolidare l'edificio. Avete visto che la grande demolizione che è stata e poi la creazione di questo grande nuovo cuore che è questo cubo di vetro che ospita il Nucleo d'Arte Contemporanea. Queste sono le gallerie di cui vi parlavo. C'è un front office degli uffici comunali, un back office, il salone per le conferenze, il museo e poi tutti gli spazi commerciali o comunque dedicati, come in questo caso, alla spiega della fabbricazione del vetro. Ecco, queste sono le gallerie e qui si accede, siamo stati fortunati, come spesso lo si è in Portogallo, siamo riusciti a disegnare tutto, 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 tutti i dettagli, i portoni, i nuovi portoni, gli infissi, gli infissi in legno, il giardino, le illuminazioni. Questo cubo come funziona? Funziona con una doppia pelle, una trasparente e una opaca. si accede all'interno della struttura attraverso questi tunnel di marmo calcareo portoghese che crea questo attacco-stacco con l'edificio storico. Il cubo di vetro, così come è conosciuto o lanterna, perché è spettacolare quando di sera si accende e si vede da lontano da tutta la città, funziona termicamente anche non utilizzando i mezzi meccanici che sono stati predisposti, perché grazie alla doppia facciata di un metro e mezzo, una trasparente e quella opaca, a volte mi dicono che non accendono né il riscaldamento e neanche il sistema di rifrigerazione durante l'estate. Ecco, qui si vede l'attacco, l'attacco-stacco come questo nuovo cuore dà vita a questo nuovo giardino. Questo è lo spazio del tendimento al pubblico quando si vanno a pagare per esempio le bollette della luce o comunque quando si consegnano delle concessioni edilizie, per esempio, questi sono i separé di marmo che separano appunto e permettono l'intimità delle riunioni, dell'attenimento al pubblico e l'effetto cangiante di questo volume è straordinario perché è sempre diverso durante le ore della giornata. Questa è l'intercapedine di un metro e mezzo che abbiamo dei mezzanini che permettono di pulire all'interno i vetri delle due facciate mentre la manutenzione esterna avviene regolarmente con dei cestelli. Questo è lo spazio del museo, si accede attraverso la scala azzurra o attraverso gli ascensori e c'è la collezione di artisti portoghesi, la collezione del museo del vetro. Nella parte retrostante c'è il back office, quindi gli uffici amministrativi, ma c'è anche tramite questo mezzanino ma c'è anche la sala polifunzionale che è una scatola di cemento all'interno di questa nuova ristrutturazione. Queste foto sono di Rita Burnester, bravissima, qui si capisce bene come si entra all'interno della bocca di un gigante e questa è la nostra scatola di cemento che poi crea gli spazi multifunzionali. A livello acustico abbiamo questi grandi ombrelloni rovesciati che controllano gli effetti acustici e una pelle di legno che costituisce appunto il controllo acustico delle sale ma anche gli spazi tecnici dietro questa nuova pelle di legno. E qui si nota il movimento cangiante di questa lanterna magica che cambia durante la giornata. L'ultimo progetto di questa fase UrbanScape, poi ci volgiamo sul finale della comunicazione, siamo a Cantù, Cantù invece di essere la capitale del vetro in provincia di Como è la capitale della produzione di tutto quello che è legno, di quello che è mobili, di quello che è esposto tutti gli anni nella grande kermesse del Salone del Mobile. Nel 2004 il nostro studio ha vinto la ristrutturazione del centro storico che aveva come cuore la ristrutturazione della Piazza Garibaldi che era una grande rotatoria con dei pini marittimi che è senza non consona diciamo su questo crinale delle prealpi. L'operazione che noi facciamo è quella di creare un grande, di abbattere tutte le barriere architettoniche, di creare un grande lenzuolo come lo definì Luigi Snozi nella giuria o Piera Rencroset per esempio, questo grande lenzuolo di granito che era dell'Adamello che abbiamo utilizzato perché era già stato cavato per unire i grandi dislivelli da qui a qui abbiamo più di 5 metri di dislivello e quindi anche in questo caso poi la storia ci ha aiutato perché in passato la piazza era già stata un campo senza barriere architettoniche questo poi è stato il risultato nel corso degli anni la piazza ha assunto vari nominio di nickname la gobba, la montagna insomma questo è quello che comunque il bando ci richiedeva era anche quello di creare un nuovo spazio che potesse accogliere come in questo layout varie manifestazioni da quelle sportive a quelle di spettacolo oppure è stato è stato un paio di volte l'arrivo del Giro d'Italia ecco, siamo riusciti a disegnare tutto anche in questo caso come se fossimo in Portogallo come i paracarri questa bellissima canalina di pochi centimetri che crea un effetto spettacolare quando piove l'acqua entra perfettamente in questa canarina che ogni tot metri è anche a livello di manutenzione aspirabile con un sistema di chiusini che abbiamo previsto abbiamo disegnato il sistema di illuminazione il nuovo sistema di illuminazione della cattedrale di San Paolo le panchine in produzione da orsogrilli i cestini la fontana abbiamo lavorato con Lilia Caterina che è un'artista una scultrice portoghese il blocco di marmo rosa ha viaggiato dal Portogallo per diventare l'intervento scultorio all'interno della piazza e quindi la fontana queste sono le dimore degli alberi abbiamo ristrutturato l'edificio della vecchia edicola che è diventato un bar e le altre piazzette che salgono fino alla cattedrale in momento di demolizione abbiamo stipato tutti i vecchi ciotoli di fiume che poi abbiamo mischiato con quelli nuovi per realizzare le altre piazze e piazzette che giungono fino alla cattedrale quindi sempre questo continuo riciclo quando si può fare questo progetto non ve lo racconto preferirei che ve lo raccontasse Alvaro Sizza domani è un intervento a Gallarate si parlerà di una cosa importante di quando la città entra all'interno anche di un condominio privato e quindi il giardino privato diventa un passaggio della città sarà tema uno dei temi di domani queste sono fotografie del cantiere che abbiamo fatto insieme e anche in questo caso insomma siamo riusciti Sizza ve lo racconterà abbiamo disegnato tutto come se fosse un'architettura degli anni 50 60 di Gardella o di Ponti insomma anche gli infissi e qui c'è il gigante Alvaro Sizza sempre in cantiere che ha seguito sempre da vicino le fasi di cantiere lo scenario 4 è l'ultimo velocemente People che sono le persone che sono sempre l'anima degli spazi nella Biennale del 2016 il Portogallo che non ha padiglione non ha fissa dimora all'interno della Biennale ha organizzato il suo padiglione a Giudecca però io vorrei anche domani che questo fosse tema anche con Alvaro domani durante la giornata insomma il Portogallo non ha padiglione nel 2016 nel cantiere allora fermo e poi domani vi racconteremo la storia abbiamo organizzato il padiglione nella Biennale di Aravena del Portogallo all'interno del Unfinished Building di Alvaro Sizza a Campo di Marte che vinse nell'83 il concorso per la ristrutturazione di tutta la zona e questa è questa è l'esposizione il ritorno di Alvaro Sizza in quattro quartieri a Berlino ad Amsterdam a Porto e a Venezia il ritorno vero e proprio perché lui ritorna nelle case e parla con i residenti nuovi e di allora alcuni li conosceva ancora e si confronta con lui the silence is needed dice qua nel video e questa è stata l'inaugurazione con i 365 residenti di Campo di Marte nel 2016 e qui e questo è la fake dopo la cerimonia anche a Giustinian del sabato abbiamo postato il nostro leone d'oro che in realtà era un leone di legno comprato da un negozio cinese qui accanto si capisce benissimo la scala ma ci sono alcune riviste subito in diretta hanno pubblicato come il Portogallo vincitore del leone d'oro noi abbiamo vinto il leone di legno che è stato quello di far riprendere i lavori finalmente a Campo di Marte ecco quello era il nostro obiettivo fin dall'inizio domani ne parleremo per ultimo insieme al comune di Porto e di Matosigno abbiamo fatto in un paio di edizioni e con studenti che arrivavano da tutti i continenti due laboratori estivi che hanno permesso di costruire due spazi gioco per i bambini ma che poi sono stati utilizzati anche dagli adulti in questo caso Biscio Teatrigno e fuoco che vuole dire verme vermiciattolo piccolo teatro e fuoco costituivano il playground che abbiamo costruito insieme ai residenti insieme agli studenti che arrivavano da lontano insieme ai bambini insomma tutti hanno dato una mano durante le due settimane di progettazione sul campo che poi si è conclusa con una con una grande festa di inaugurazione e grandi balli e grandi canti e una una grigliata insieme ai residenti nell'anno successivo a Matosigno Sterra dove è nata dove è nato Alvaro Sizza abbiamo sempre con la stessa modalità e sempre diciamo con gli studenti che provenivano da varie università costruito quattro stanze in questa playhouse una col tetto con il soffitto e una e una senza ecco il laboratorio quindi di di progettazione con i residenti e di costruzione con insieme ai residenti e la festa inaugurale qui si vedono le pentole i residenti già pronti alla grande festa e il banchetto che poi ha inaugurato il playhouse all'interno del del quartiere amongst people è una frase che che utilizzo spesso che vuol dire appunto stare in mezzo alle persone l'architettura non è nulla senza le persone le persone sono l'anima degli spazi sono loro che danno senso l'architetto dà forma a un luogo che viene utilizzato dalle persone la forma la forma come diceva il mio amico Christian Kinkens che è stato una delle vittime del covid due mesi fa diceva la forma anche essa è una funzione grazie 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 sono andato veloce su quelle paio di cose che invece preferisco che le racconti sia domani e quindi però questo era il senso insomma le persone sempre prima di tutto ci vediamo domani aspetta no allora ricordo agli studenti che se vogliono fare delle domande possono usare la nostra chat quindi ti crederai alla cortesia di aspettare due minuti così intanto loro scrivono se interagiscono e nel frattempo mentre aspettiamo se vuoi ti faccio due domande io mi è piaciuto è moltissimo infatti sono contenta perché alcuni progetti non li conoscevo quindi credo veramente che Roberto il tuo lavoro sia quello di un architetto possiamo dirlo a 360 gradi cioè nel senso lavori dall'installazione all'edificio al progetto di suolo all'architettura partecipata cioè mi sembra che veramente sei un architetto a tutto tondo sì però faccio un servizio perché io ci tengo negli ultimi due conferenze quella di settimana scorsa quella con le seppie e domus e quella prima al mat io ho detto I am not an artist I am an architect no ma ma questo non è provocatorio nel senso che poi Silvia domani lo dirà sempre noi faremo partire un piccolo video dove lui dice io 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 sono un servizio capito quindi ma questo è importante ti ringrazio anche di ricordare agli studenti il valore che l'architettura può assumere ti volevo fare due domande due curiosità guardando i tuoi progetti soprattutto quelli in ambito museale no mi ha colpito vedere che in realtà cambiano moltissimo rispetto al luogo dove si trovano e questo secondo me è un aspetto molto importante che mi piacerebbe che tu mettesse a fuoco perché come sai io collaboro alla didattica da tanti anni e spesso mi è capitato magari di vedere dei progetti dove il tema appunto era l'installazione dentro un museo insomma un'installazione museale e magari capita i progetti ovviamente alle prime armi che si confrontano con la presistenza propongono delle installazioni che possono stare dappertutto invece a me ha colpito vedere che per esempio a Napoli in un progetto troviamo il tripudio di volumi baroccheggianti che riprende un po' no la napolitanità si può dire oppure vicoli no ricrei i vicoli napoletani mentre al maxi invece ti sei trovata ad interagire con l'architettura d'autore come quella di Zadid allora potresti spiegare bene come ti rapporti ogni volta cioè qual è l'importanza cioè se per te nei progetti è importante la presistenza e il contesto se questa cosa poi come la 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 trasmetti nel tuo progetto allora quando quando visitiamo nell'ambito museografico un luogo c'è una perdita c'è una perdita totale cioè proprio la paura del vuoto come si vedeva in quella prima fotografia di Capodimonte della enorme sala causa che ha 500 metri quadrati quindi la paura del vuoto e poi tu dici mamma mia che cosa faremo però chi aiuta l'architetto è il curatore che comincia a raccontare per primo la storia quindi c'è il curatore che racconta una storia ma c'è anche uno spazio quindi io spiego subito fin dall'inizio anche al cliente che può essere il direttore di un museo ma da subito che la nostra il nostro intervento sarà un'installazione che interpreta anche gli spazi e nel caso per esempio adesso stiamo preparando l'esposizione di Vincenzo Gemito e di Luca Giordano sono due a Capodimonte che sono stati in due epoche diverse i due grandi artisti di Napoli e nella prima presentazione quella di Vincenzo Gemito io spiegavo al direttore e ai curatori che non si può quando si pensa a un artista non lo puoi allontanare dal suo luogo quindi dalla sua città da quello che era il suo studio e quindi a me piace a noi piace far risentire sempre nel caso di un artista o nel caso di un racconto che che c'è una spazialità che va al di là di un display espositivo cioè è come entrare all'interno dell'anima di una storia ma che è in uno spazio specifico non sono delle semplici non sono delle vetrine non sono dei contenuti che poi raccontano una storia ma ti devi immergere appunto come dicevi in uno spazio onirico no? come appunto come diceva Cervantes niente è più realtà di un sogno insomma è un po' questa cosa che uno chi visita entra in uno spazio però poi si deve riempire anche un po' di dubbi e deve uscire da questa esposizione anche un po' perso quindi creare il dubbio questa è una citazione di Mirko Zardini grazie mille abbiamo una domanda dal pubblico che ti leggo buongiorno Roberto che consiglio darebbe ai giovani progettisti va bene allora leggete l'intervista settimana prossima che ho dato su Art Review che è la prima domanda che mi hanno fatto no? fa ridere allora i giovani allora io io non vorrei essere un giovane progettista adesso di 30 anni però ognuno ha insomma ognuno deve vivere il suo tempo io vi ho fatto vedere una serie di concorsi che più di 25 anni fa non avevo neanche 30 anni ho avuto modo di vincere ma perché non c'erano tutte quelle richieste che esistono ora di requisiti tecnici economici di fatturati erano concorsi aperti a tutto a tutti e quindi noi ci siamo costruiti il nostro ambito professionale con la fortuna di avere questi incarichi che provenivano da concorsi adesso non c'è più non ci sono più queste modalità ci sono i supergruppi ci sono e quindi questo è quello che il consiglio è quello di bisogna fare link quindi i giovani progettisti devono devono mettersi a lavorare con magari progettisti che hanno una ventina da anni più di me e poi insomma fare gruppo prima di tutto poi niente c'è questa questione del adesso molto si utilizza dell'architettura effimere del padiglione del cosa che dà la possibilità di creare un manufatto di confrontarsi con l'architettura però poi alla fine trova il tempo che trova e quindi eviterei di pensare che se un architetto un giovane architetto costruisce un'architettura in mezzo al paesaggio di questo tipo ne deve fare ancora di strada quindi eviterei tutti questi premi e premietti il premio delle donne il premio degli under 35 il premio degli under 30 il premio degli uomini il premio delle lesbiche il premio del cioè l'architettura è solo una non ha età viene fatta bene da un architetto di 25 anni come viene fatto bene da un gigante come è Umberto Riva che ha 92 anni ha dovuto aspettare fino a 92 anni per avere mezzo numero monografico di Casavella per far vedere il suo lavoro beh grazie per la risposta è comunque molta tenacia ecco molta tenacia sì perché i tempi magari non sono facilissimi e poi muoverci muoverci bisogna muoverci sempre vabbè il più grande la più grande invenzione della comunità europea infatti è stato l'Erasmus e questa invece è una citazione di Umberto Eco senti un'altra domanda come scegli i colori i tuoi colori nei progetti la cosa più difficile che c'è è scegliere i colori e quindi ci sono grandi litigati in studio per scegliere i colori è molto difficile guarda facciamola domani a Sita questa domanda per esempio perché lui dice è la cosa che mi fa tremare di più perché ci sono dei grandissimi nella storia cioè l'uso del colore nell'architettura contemporanea parte diciamo dal neoplasticismo dai colori primari e poi si lega molto insomma anche il lavoro che sto facendo con il nostro laboratorio parla 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 dei colori e parla di come in in otto casi geografici l'architettura vernacolare si mischia col moderno quindi giganti come Barragan vanno a prendere dalla tradizione del Messico quei colori e la inseriscono e quindi per scegliere un colore scegliere il colore non è non è non è per niente non è per niente facile perché deve deve comunque avere una una peculiarità che è legata a un percorso che è sempre comunque legata a una storia che devi raccontare non è casuale non è decorativa benissimo grazie nel caso di quel progetto di Serralves i colori si ispiravano ai colori del giardino volevamo fare entrare all'interno del museo bianco di Size quindi ancora il contesto no? è importante un riferimento importantissimo per il progetto alla fine noi non facciamo niente nel senso che il contesto la storia e poi la frase che cito sempre il tempo è il migliore architetto senti è arrivata un'altra domanda nel frattempo complimenti Roberto per l'esposizione Saramago diceva che porta uno stile di colore quanto questi colori hanno influenzato la vostra architettura? è vero ma ho fatto vedere in una fotografia all'inizio quelle sul post-covid la cappella delle Alme cappella da Salmas il Portogallo ha queste maioliche azzurre che fanno parte da nord a sud della storia portoghese non sono solo azzurre sia Porto che Lisbona sono due città che vivano anche grazie ai loro colori sì 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 questa citazione di Saramago è bene sono contenta che si sta animando il dibattito nel frattempo io invece ti faccio una domanda una mia curiosità e poi se non ci sono altre domande per oggi chiudiamo ho notato nella tua presentazione che ci sono degli schizzi fatti da te no? dei disegni a mano allora questo ci spostiamo sull'ambito della rappresentazione volevo chiederti quanto è importante il disegno a mano e quanto poi il disegno tecnico eccetera però io non so se non l'hai fatti vedere ho notato che non usate mai render o sbagli? quasi mai se si può i rendering si usano quando te li chiedono i clienti noi usiamo molto vabbè l'avete visto nel 2018 nell'edizione Italian Beauty quindi utilizziamo molto i plastici che poi vengono fotografati e sono la base per ricostruire anche in Photoshop le forme e utilizziamo molto il disegno a mano i render se puoi spiegare perché perché questo è importante secondo me per gli studenti scusami se ti interessa vabbè adesso ultimamente poi c'è la moda del collage fa sempre parte di un periodo di rappresentazione allora non mi ricordo quando ah sì settimana scorsa eravamo a Roma e abbiamo fatto vedere abbiamo fatto vedere dei rendering perché in una progettazione all'interno dei fuori romani vabbè non ne parliamo molto poi ne parlerà chi di dovere stiamo facendo un intervento importante c'erano dei rendering e alla fine il rendering è talmente può diventare talmente imperialista o al contrario che a un diciamo un profano se noi siamo i sacri si medesimano cioè pensano troppo al concreto di quell'immagine e per loro rimane un un grigio che per noi però è un bianco rimane nella nella testa e quella è l'immagine che loro che loro vedono finale ma che non sarà mai l'immagine finale è per quello che non 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 mi fido non mi fido dei rendering non 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 mi piacciono e e e a volte si riesce con con lo schizzo a rendere molto di più l'idea dell'atmosfera del di quello che succederà in uno spazio certo forse si perde anche quell'aspetto sognante che un po' caratterizza il tuo lavoro no? quell'atmosfera onerica di cui parlavo all'inizio poi è come concludere un lavoro che devi iniziare invece però a volte ai clienti lo chiedono quindi ok grazie mille io credo che non ci siano più domande va bene vado a prendere un aereo allora ti lasciamo prendere l'aereo ti ringraziamo ancora per questa bella comunicazione ci vediamo domani a domani ciao buon pomeriggio a tutti ciao 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 ciao